...gruppo frazionatissimo, vediamo davanti chi la spunta, dovrebbe essere il numero 55, Thomas Trainini. Thomas Trainini, settima vittoria che vale anche la maglia provvisoria di leader del Giro del Friuli. Sì, non me l'aspettavo visto che l'abbiamo organizzata un po' a occhio e questa vittoria vale perché indosserò anche la maglia domani. 20 uomini in fuga nell'ultima tornata, ci credevi in questo sprint? Dire la verità no, perché pensavo che arrivasse la fuga, poi verso i 9 km mi pare, li abbiamo raggiunti e dopo lì il mio compagno andrà piccolo, mi ha portato avanti e poi è arrivato questo bel risultato anche oggi. Siamo venuti qua per vincerlo questo Giro, quindi bisognerò vedere domani le gambe, come risponderanno alla fatica di oggi e mi metterò a disposizione se non ci accorrerò. La dedica va a tutti i miei compagni, quelli che ci sono qua, quelli che correranno domenica e anche a tutti gli accompagnatori del Presidente.